Diretta a chiocciolarbe.it per le vostre mail, se volete scriverci, se volete segnalarci eventi, appuntamenti, incontri, iniziative che si svolgono non per forza in questi giorni ma anche un po' più in là nel tempo, noi invece parliamo proprio di un'iniziativa che si terrà tra un paio d'ore, nemmeno perché è la presentazione del libro di Luisa Gai, l'AR Editori, dal titolo Irrequieti Viaggiatori Valdesi. Luisa, buongiorno, benvenuta su Radio Bequiet. Fresco, fresco di stampa. Appena uscito. Appena uscito e quindi infilato anche nell'ambito del sinodo delle chiese valdesi metodiste e la presentazione. Luisa Gai, quindi intanto due parole su di lei, chi è, come, dove abita insomma. Allora io sono da poco residente a Torre Pellice però lavoro a Milano quindi diciamo che il domicilio di lavoro e lì sono regista e piano piano dalla regia sono arrivata alla drammaturgia perché mi piaceva scrivere i testi delle cose che poi si mettevano in scena e poi dalla drammaturgia sono rotolata verso la narrativa e ho fatto un paio di cose anche carine credo. La prima uscita qui proprio col centro culturale con la reddit è stata il pianoforte di Fanny che erano le storie di donne a cavallo tra l'ottocento e il novecento che avevano avuto delle vite molto interessanti per dire una è stata la babysitter dei Rockefeller quindi non era rimasta nell'anonimato. Dopo questo c'è una persona meravigliosa che voglio ringraziare che è Gabriella Ballesio l'archivista che sta nell'archivio come uno scoiattolo e va lì si dice un nome e lei trova 20 pagine di documentazione. Confermo Gabriella sa tutto delle persone. Gabriella dopo un anno due di questa cosa mi ha tirato dentro dicendo ma c'è questo i polit guy, dai il cognome è interessante, ha fatto il capitano di ventura, è morto scavando il canale di Panama. Dico vabbè vediamo e vedo questa biografia a dir poco straordinaria. Fatto questo Gabriella non è tornati fuori altri. Ci sarebbe anche Octave Prochet che ha fatto il produttore cinematografico a Hollywood. Dico va bene anche questo. Vuoi non metterlo. Vuoi non metterlo. Poi è saltato fuori un altro signore che è stato il segretario di un principe russo prima della rivoluzione chiaramente. Poi insomma venivano fuori mano a mano. C'era questo professor Parander che era uno studioso di livello internazionale però qui si parlava solo delle sue ipotetiche trasgressioni del fatto che non era abbastanza rigoroso. Tant'è vero che poi è andato a fare il professore universitario in giro per l'Europa salvo poi tornare in vecchiaia nelle valli come hanno fatto più o meno tutti i miei personaggi. Tranne due appunto Ippolit che è morto scavando il canale di Panama di febbre gialla come dirigente dei lavori non come bracciante. E un altro che è morto nella prima guerra di indipendenza proprio nella battaglia di Novara. Tutti questi personaggi hanno come fil rouge diciamo come comune denominatore il fatto che erano valdesi. Erano valdesi tutti originari più o meno di qui. Tranne vabbè gli appia sono chiaramente una famiglia simbolo però quello di cui parliamo qui che è lui quello che ha fondato la croce rossa era già nato all'estero e vissuto quasi sempre all'estero però tornava tornava nelle valli si interfacciava col fratello con la famiglia e quindi le radici diciamo che qui ci sono sono molto forti. Sì personaggi valdesi che proprio forse anche grazie alla loro religione avevano uno sguardo sul mondo aperto e avevano magari anche famiglie amiche che potevano ospitarli aiutarli quindi insomma si è sempre detto che il popolo comunque valdese la comunità valdese era già un popolo diciamo europeo aperto fin dagli inizi. Ma infatti infatti nell'ottocento li tenevano schisci perché erano un'elite culturale tutti sapevano leggere e scrivere anche le donne andavano a scuola c'erano i collegi c'erano li mandavano nelle università all'estero erano una spina nel fianco di una diciamo di uno stato bigotto e retro come quello dei Savoia. C'è voluto un bel pezzo perché gli dessero le libertà di di culto di fare commercio di tutto quanto il 48 mi pare. Sì nel 1848 e quindi insomma in qualche modo anche facilitati poi a viaggiare. Sicuramente. E da qua anche poi il tuo titolo viaggiatori valdesi. Sì con una gran voglia di girare di conoscere di fare però la cosa che ho trovato è che in tutti loro qualunque bestiere facessero c'era questa come dire questa spina dorsale valdese per cui questo octave che è stato a Hollywood che dava del tuo a Clark Gable a Kennedy non è mai incanaglito come negli anni venti succedeva facilmente in quell'ambiente è sempre rimasta una persona rigorosa e così tutti quanti. Hanno mantenuto anche un po' il loro insegnamento che arrivava dalla fede. Sì 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 infatti. Qual è il personaggio che ti è risultato più simpatico? Ma io diciamo che mi sono innamorata di Bartlemy quello che è andato in Russia io non sono mai stata in Russia tutto quello che so e veniva dalle mie letture da un po' di studi che ho fatto da internet per cui ho descritto San Pietroburgo senza averla mai vista e ho pescato a piene mani da Tolstoi piuttosto che da Lermontov piuttosto che anche da Nabokov che anche se scriveva in inglese era profondamente russo e è venuto questo personaggio molto romantico molto infatti ecco una cosa che volevo anche un po' spiegare poi a chi leggerà e che non sono biografie come come si possono trovare di lascaliche sono quasi delle sceneggiature sono delle storie e per ogni personaggio ho cercato uno stile di scrittura diverso per esempio Bartlemy sono proprio andata sul romanzo dell'ottocento perché ci stava per caratterizzarli un po'. Poi invece ho fatto delle lettere completamente inventate che il professor Parander non ha mai scritto neanche mai spedito ma fa niente io glielo ho fatte scrivere poi c'era appunto un diario di Octave le memorie del fratello di uno di Pellegrin che è molto molto giovane e un flashback della discendente di Caffarel che ricorda tutta la storia della famiglia dalle origini ai gianduiotti praticamente. Quindi si spazia? Si spazia. Si spazia non solo geograficamente ma anche come ambiti? Come ambiti e anche penso proprio come stile di scrittura perché non si può annoiare la gente né quando si fa teatro né quando si scrive secondo me. Bene allora per chi fosse rimasto incuriosito da questa piccola presentazione che abbiamo fatto io vi faccio anche vedere questo il libro di Luisa Gai, Irrequieti Viaggiatori Valdesi, la redizione in collaborazione con la Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice alle 16, intorno alle 16 allo stand appunto della fondazione. Luisa presenterai il tuo libro insieme appunto a chi sarà presente in una chiacchierata. Non posso riciclare l'intervista? Non vale, non vale. Vi farei una nuova tra poco. Va bene, grazie per essere stata con noi. Grazie a te, ciao.